Ciao Fedez, sono Don Alberto, sono un prete, come si vede, ho 26 anni e vivo a Bustarsizio, questo è il mio oratorio, qui c'è casa mia, qui svolgo l'attività con i ragazzi e sono un tuo fan. Mi piacciono un botto le tue canzoni e ho ascoltato anche l'ultima, Rosis con D'Argent Amico, bella. Arrivo però alla battuta sui preti e mi viene questa considerazione, che il tono della battuta era provocatorio, ovviamente non possiamo nascondere che ci sono stati degli scandali nella chiesa che hanno riguardato i preti, però come sempre fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce e io non so, mi piacerebbe, magari anche con te, capire come dare valore alla foresta che cresce perché per esperienza personale, negli oratori, nelle parrocchie, ci sono centinaia, migliaia di bambini, di adolescenti che ci vanno volentieri, che faranno delle esperienze molto, molto positive e sarebbe giusto nei loro confronti valorizzare questo aspetto, io ne sono straconvinto. Io ti invito volentieri qui in oratorio da me per incontrare i miei ragazzi, per parlare con loro, per ascoltare da loro direttamente tutto il bene che hanno sperimentato qui in oratorio nel rapporto con me, nel rapporto con gli altri preti. Credo che avrebbero davvero tante cose da dire. Tu sei un'influenza, sei molto ascoltato e anche tutti i miei ragazzi ti ascoltano e credo che, non so, magari insieme ci sarebbe la possibilità di valorizzare un bene più grande perché tanti ragazzi ti ascoltano, ma tantissimi ragazzi frequentano gli oratori e le parrocchie e lì dentro faranno delle esperienze positivissime per la loro esperienza. Niente, io volevo solamente dirti questo, grazie per la tua musica, se riuscissimo a fare qualcosa insieme per un bene più grande, per i ragazzi del nostro paese, sarebbe fantastico. Ciao! Innanzitutto, piacere di conoscerti Don Alberto e trovo fighissimo poter creare un sano dibattito tramite Stories. Speriamo diventi di moda. Sono certo che, come te, ci sono tantissimi altri preti che portano avanti con grande vocazione e dedizione il loro lavoro e fanno tantissimo bene alla comunità, cioè le parrocchie sono centri nevralgici di aggregazione, sono importantissimi. Io stesso che oggi sono laico, ho avuto un'educazione cattolica perché è un po' la prassi, diciamo, nel nostro paese, quindi nessuno toglie ciò che di buono voi fate. Sai, voi siete, e lo dico, cioè per me non è un disvalore, delle fantastiche piedine, e il problema è che dietro di voi c'è uno Stato che vi rappresenta, che ha un enorme potere, che un po' cozza, diciamo, con la narrazione spirituale. E se vogliamo entrare nel merito dei preti perdofili, il Vaticano è sempre stato fin troppo clemente, anzi, ha spesso insabbiato, dislocato i preti, e anche delle personalità che sono state santificate dal Vaticano si sono rese protagoniste di aver preso dei preti che oggettivamente avevano stuprato dei bambini al posto che, a darli in galera, li hanno semplicemente spostati di parrocchia. Ecco. Io vorrei che tu interpretassi le mie rime non tanto come un attacco a te e a chi come te ha una vera vocazione per fare del bene, ma chi, purtroppo, dietro di voi, più grande di voi, troppo spesso ha fatto delle cose che poco si conciliano con una spiritualità cristiana. Cioè, basti pensare che in Vaticano è stato dato l'ok per seppellire nella Basilica di Santa Pollinare Renato De Pedis, che era un ex boss della banda della Magliana. Ecco, diciamo che lo Stato Vaticano troppo spesso si è trovato più vicino a realtà, per essere generosi, torbide, che al buon Gesù Cristo. Ecco. Ecco, ragazzi, il vero swag è passare il sabato sera a fare 300 stories per parlare con Don Alberto. Sei cazzo. Fedez, buona domenica. Grazie per il confronto e per i togli di questo dialogo. Credo che possa fare tanto bene a chi ci ascolta. Per quanto riguarda la pedofilia, hai ragione, sono ferite troppo grandi nel cuore della Chiesa, che hanno fatto male, fanno male e continueranno a far male. Perché non se ne andranno mai? Ma proprio per questo in realtà ci obbligano a mettere in campo tutte le nostre energie per estirpare questo cancro che squalifica la Chiesa di fronte al mondo. Io però so che qualcosa sta cambiando. A partire da Papa Francesco in giù, ad esempio, dal maggio 2019, tutti i vescovi hanno l'obbligo di denuncia rispetto a preti implicati in casi di pedofilia. Straconvinto di questo, che la Chiesa si inizia a cambiare dal basso e non dall'alto. O perlomeno nel corso della storia è sempre stato così. Tanti fanno coincidere la Chiesa con il Vaticano, ma in realtà non è così. Il Vaticano fa parte, è lo stato della Chiesa, ma la Chiesa in realtà è molto più grande. Sarebbero tante cose di cui sarebbe bello parlare insieme, perché abbiamo due punti di vista diversi, ovviamente. Ma come dicevi tu, non c'è prospettiva senza due punti di vista. Io sono disponibile per un confronto, per un incontro, per un progetto. Non so, poter fare qualcosa di bello, ad ampio respiro per i ragazzi, che sono tanti negli oratori e sono tanti ai tuoi concerti. Chissà che questi due mondi in realtà non si possono niente.